Oggi come Partito Democratico abbiamo denunciato la perdita di fondi, fondi per un bando per il caro prezzi che la ASL di Pescara ha completamente perduto per non aver contratto obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022. Sono 3 milioni 730 mila euro che peseranno sulla collettività perché erano previsti per le case di comunità e per gli ospedali di comunità. Perdono i fondi Penne, Pescara, Cepagatti, Scafa, Spoltore, Montesilvano, San Valentino, Città Sant'Angelo e ancora Montesilvano per quello che riguarda l'ospedale di comunità. Tra questi particolarmente importante è la perdita di 680 mila euro, 687 mila euro per la precisione, per la realizzazione della casa di comunità all'interno del parco 8 marzo di Pescara. E già perché nonostante questi siano fondi del PNRR per la transizione ecologica, la ASL di Pescara e il Comune hanno pensato di realizzare una casa di comunità all'interno di un parco. Ora, questa casa di comunità che costa circa 3 milioni di euro, qualcosa in più, perde 687 mila euro e non sappiamo oggi come verranno recuperati. Negli stessi momenti, nelle stesse ore della nostra conferenza stampa, il Consiglio Comunale di Pescara sta approvando il diritto di superficie a favore dell'ASL per la realizzazione di questa casa di comunità. Quindi io chiederei naturalmente di verificare come si recupereranno queste che non sono bruscolini, sono 687 mila euro. E mi viene anche da rispondere al sindaco di Pescara che con una lettera a marzo ha chiesto all'ASL di Pescara di realizzare un parco in sostituzione di quello che si va a prendere. Intanto, se si fosse ragionato a febbraio del 2022, si sarebbe trovata sicuramente una soluzione. Ma l'ASL non può realizzare un parco, soprattutto non li può realizzare con i fondi del PNRR e ancor meno li potrà realizzare con questi fondi, visto e considerato che della somma necessaria si perdono 687 mila euro. Con un atto di redenzione, quindi io chiedo al sindaco di Pescara, alla ASL e all'assessore Veri di ragionare su quello che si sta facendo. Non si commetta quest'altro errore, anche perché potrebbero mancare questi 687 mila euro per la definitiva realizzazione dell'intera casa di comunità.